Nel spettacolo creiamo insieme un documentale, insieme a Stefano Dabonuzzi, la persona che girava con la videocamera a strada, insieme stiamo cercando un maconuto. Ecco, questo è un breve documentale di 15 minuti che abbiamo realizzato cercando appunto di trovare maconuti sui personaggi, i personaggi del libro che diventano innocentemente, grazie alle vostre risponduzioni. Ci siamo a continuare a dire che lo comincio senza altri. Ecco, con le vostre domande? C'è una domanda, come stai in Cina, si inizia con il... Ciac si gira! Ciac lo fa in te per piacere! Ciac si gira! Allora noi non abbiamo in mezzo appunto delle grandi cose di ricorduzione che siamo a prendere, però bisogna fare il cioc con le mani, e sbattere le mani e ci sentono. Dabonuzzi, facciamo così, perché non si rendono i sottotitoli, ci scusiamo per i nostri plani che ci sono, dovevo prendermi la domanda, ma se volete abbiamo, avete ricevuto il divino, c'è anche la divina propria inza qua, quindi non ci sono, cosa può creare, senza nulla, senza nulla. Grazie!